Il campo gara di una manifestazione all'aperto Quindi quando si parla di manifestazione all'aperto che siano vicino a un lago, a un fiume, al mare o comunque su prati o comunque su una piazza o comunque su strade è evidente che le strade vanno chiuse, non c'è ombra di dubbio. Quindi su questo fatto gli amministratori e anche i cittadini italiani devono capire che una manifestazione all'aperto comporta questi piccoli disagi. Io non li chiamo disagi perché comunque è una grande opportunità che si portano nei nostri paesi di portare atleti da tutto il mondo. Alle volte noi abbiamo organizzato in passato i campionati europei nella prova di Coppa del Mondo oppure da tutta Italia. Si porta ricchezza perché ci sono numeri importanti soprattutto anche nel triathlon, però è evidente che dobbiamo chiudere le strade dove si fanno queste manifestazioni. Questo alle volte induce gli amministratori locali a dover ascoltare tutte le voci e tutte le lamentare dei loro cittadini, in modo particolare magari dei commercianti, che magari vedendosi chiusa la strada proprio davanti al loro negozio pensano che sia un grave danno per loro. Sarà un grave danno probabilmente per quella giornata, ma sicuramente sarà una ricchezza futura perché portare, credo, quest'anno circa 6.000 persone, atleti, parlo di atleti, in quel di Rivine Lago non credo che Rivine Lago abbia tanto turismo in questo senso durante l'anno. Quindi noi crediamo di aver fatto un grosso servizio ai nostri paesi, perché li ritengo comunque, anche se io non sono di Rivine Lago, ritengo il nostro lago quello di Rivine Lago. È evidente che però un po' di sacrificio ci vuole da parte di tutti, comprendo gli amministratori che devono ascoltare tutti, però poi bisogna prendere le decisioni e sì, d'accordo ascoltare i commercianti, ma fino a un certo punto, perché poi alla fine... Mi scusi, c'è ancora una scarsa cultura sportiva in Italia? Beh, c'è una grande cultura sportiva, ma alle volte passa in secondo piano quando ci sono dei piccoli interessi personali da salvaguardare e questa ovviamente fa parte della cultura dell'italiano medio, mi dispiace, ma è così. Grazie. 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 Grazie.